Tutti si guardino dall'essere ipocriti, anche il Papa. Questo è il messaggio forte lanciato questa mattina da Papa Francesco nell'Omelia a Casa Santa Marta. Sentite. Per essere misericordiosi verso gli altri dobbiamo avere il coraggio di accusare prima noi stessi. E quanto ha affermato quest'oggi Papa Francesco nella Messa Mattutina a Casa Santa Marta. Il Pontefice ha sottolineato che dobbiamo imparare a non giudicare gli altri per non diventare ipocriti. Un rischio, ha avvertito, da cui tutti si devono guardare. Dal Papa in giù. Papa Francesco ha sottolineato che in questi giorni la liturgia ci ha fatto riflettere sullo stile cristiano, rivestito di sentimenti di tenerezza, bontà, mansuetudine, e ci esortava a sopportarci a vicenda. Il Signore ha proseguito, ci parla della ricompensa. Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Per fare ciò il primo passo consiste nel coraggio di accusare se stessi prima di accusare gli altri. E San Paolo, ha aggiunto il Papa, che ci insegna ad accusare noi stessi. E il Signore, con l'immagine della palluzza che è nell'occhio di tuo fratello e della trave che è nel tuo, ci insegna lo stesso. Ossia bisogna prima togliere la trave dal proprio occhio, accusare se stessi e poi gli altri. Il primo passo, ha ribadito il Papa, è non sentirsi giudice. Se uno di noi non è in grado di fare questo, non è cristiano. Non entra in questa opera di riconciliazione, di pacificazione, di tenerezza, di bontà, di perdono, di magnanimità, della misericordia che ci ha portato Gesù Cristo. Il primo passo, dunque, ha ribadito Francesco, è quello di chiedere la grazia di una conversione al Signore. E quando ci viene in mente di pensare ai difetti degli altri, fermarsi pensando ai propri, come ha fatto San Paolo. Risparmiamo i commenti sugli altri e facciamo commenti su noi stessi l'invito di Bergoglio, perché quello che sa guardare soltanto le pagliuzze nell'occhio dell'altro finisce nella meschinità. Da ultimo chiediamo al Signore la grazia di seguire il consiglio di Gesù, essere generosi nel perdono, essere generosi nella misericordia. Per canonizzare una persona, ha poi concluso Papa Francesco, c'è tutto un processo, c'è bisogno del miracolo e poi la Chiesa la proclama santa. Ma ha notato se si trovasse una persona che mai ha parlato male dell'altro e allora sì che la si potrebbe canonizzare subito.